Ma questa è una trasmissione, mio caro avvocato, che si deve guardare pure in punto di morte. Lo capisci? Perché te dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Per ritornare alla vita! È vero? È vero? È vero? Lo so che è vero, certo che è vero. Era vero. Quella mostra era vero.